Presidente Laura Boldrini, Presidente del Consiglio Enrico Letta, vorrei dichiarare il mio voto favorevole alla fiducia in nomi di Sud America, come letta insieme ai miei colleghi Fabio Porta, Riccardo Merle e Mario Borghese, e piuttosto come la prima italo-brasiliana a essere presente in questo Parlamento vorrei dire al nome... grazie. Parlare non soltanto al nome degli italiani che sono in Brasile, ma di tutta la nazione brasiliana, perché lì siamo in più di 30 milioni di oriundi e soprattutto nell'ultimo anno abbiamo ricevuto più di 80 mila italiani cercando lavoro tra i giovani, tra le aziende che vengono a investire. Quindi voglio lasciare questo voto di fiducia al Governo, facendo anche i complimenti ai Ministri, soprattutto alle donne, come la nostra Cecil Chiang, Gianna Maria Cancelliere e anche Emma Bonino, che hanno un curriculum intelligentemente competente in grado di rappresentare bene le donne. E soprattutto lasciare un gran saluto ai colleghi onorevoli, facendo gli auguri che riusciamo insieme a costruire la nuova storia della nostra grande Italia. Grazie mille.